Vai Andrea! Bravo! 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 Bravo Andrea! Ciao! Vincere del Toro Andrea, in sessioni è fatta ma bello come sempre con neve, pioggia, vento, caldo e degli scenari da favola quando hai realizzato che si è arrivato il quadro e che eri finita? Oh ragazzi voi due stai non si poteva più mollare, quindi fino alla fine, bravo! Bravo!